Le società segrete italiane nel risorgimento. Le società segrete hanno svolto un ruolo importante nel risorgimento italiano, contribuendo alla diffusione delle idee liberali e unitarie e alla preparazione delle rivoluzioni del 1848. La prima e più importante società segreta italiana fu la Carboneria, nata in Calabria nel 1799 e diffusasi rapidamente in tutto il paese. La Carboneria era una società iniziatica, basata su simboli e rituali segreti. I suoi membri, detti carbonari, erano per lo più intellettuali, nobili e militari, che si proponevano di realizzare l'unità e l'indipendenza dell'Italia. La Carboneria fu protagonista di numerosi moti rivoluzionari, tra cui quello del 1820-1821, che portò alla restaurazione del governo costituzionale nel Regno delle Due Sicilie, e quello del 1831, che fallì nel tentativo di rovesciare il governo austriaco in Lombardia e nel Veneto. Un'altra importante società segreta italiana fu la Giovine Italia, fondata nel 1831 da Giuseppe Mazzini. La Giovine Italia era una società politica, basata su principi democratici e repubblicani. I suoi membri, detti, giovani italiani, si proponevano di unificare l'Italia in una repubblica democratica. La Giovine Italia fu protagonista di numerosi moti rivoluzionari, tra cui quello del 1848, che portò alla proclamazione della Repubblica Romana, e quello del 1859, che ebbe un ruolo decisivo nella Seconda Guerra d'Indipendenza italiana. Altre società segrete italiane del Risorgimento furono I sublimi Maestri Perfetti, fondati in Italia settentrionale nella prima metà del XIX secolo. I Calderari, fondati nel Sud Italia nella prima metà del XIX secolo. I Concistoriali, fondati nello Stato Pontificio nella prima metà del XIX secolo. Queste società, pur avendo scopi e ideologie diversi, condividevano il comune obiettivo di unificare l'Italia. La loro attività fu fondamentale per la diffusione delle idee liberali e unitarie e per la preparazione delle rivoluzioni del 1848, che segnarono una svolta decisiva nel processo risorgimentale. L'influenza delle società segrete sul risorgimento L'influenza delle società segrete sul risorgimento italiano è stata oggetto di numerosi dibattiti storici. Alcuni storici hanno sostenuto che le società segrete hanno avuto un ruolo decisivo nel processo di unificazione nazionale, mentre altri hanno affermato che la loro importanza è stata esagerata. In realtà, è possibile affermare che le società segrete hanno avuto un'influenza significativa sul risorgimento, in particolare per quanto riguarda la diffusione delle idee liberali e unitarie. I membri delle società segrete, infatti, erano per lo più intellettuali, nobili e militari, che occupavano posizioni di rilievo nella società italiana. La loro attività di propaganda e di agitazione contribuì a diffondere le idee di libertà e unità tra le masse popolari. Inoltre, le società segrete furono protagoniste di numerosi moti rivoluzionari, che ebbero un ruolo importante nel processo di unificazione nazionale. I moti rivoluzionari, infatti, contribuirono a destabilizzare gli assetti politici preesistenti e a creare le condizioni per l'unificazione dell'Italia. Tuttavia, è importante sottolineare che le società segrete non furono l'unico fattore che contribuì al risorgimento italiano. Altri fattori importanti furono l'opera dei patrioti, la diffusione delle idee liberali e unitarie attraverso la stampa e l'istruzione, e l'intervento delle potenze europee. In conclusione, le società segrete hanno avuto un'influenza significativa sul risorgimento italiano, contribuendo alla diffusione delle idee liberali e unitarie e alla preparazione delle rivoluzioni del 1848. Tuttavia, la loro importanza non va esagerata, in quanto furono solo uno dei fattori che contribuirono al processo di unificazione nazionale.